Le Nazioni Unite sono con il popolo libico e la Gran Bretagna farà la sua parte. Così il premier britannico David Cameron ha giustificato davanti alla Camera dei Comuni la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che autorizza un intervento militare in Libia. L'obiettivo di questa risoluzione è mettere fine alle violenze, proteggere la popolazione civile e permetterle di scegliere il proprio futuro senza condizionamenti da parte del brutale regime di Gheddafi. E' stato il popolo libico attraverso il Consiglio Nazionale di Transizione il primo a chiedere di essere protetto da attacchi aerei mediante una no-fly zone. La stessa richiesta è arrivata poi dalla Lega Araba. E' notevole come i leader dei paesi arabi abbiano apertamente condannato le azioni del governo di Gheddafi.